Confermata fino ad ora anche per l'Abruzzo l'indicazione del Governo sulla riapertura delle scuole giovedì 7 gennaio. Le lezioni riprenderanno in presenza il 50% per le superiori, al completo invece scuole materne, elementari e medie. A Teramo l'Ufficio Scolastico Provinciale, Prefettura, Provincia e Comune hanno predisposto un piano di rientro fisico degli alunni nei rispettivi istituti in rispetto delle regole anti-Covid. Tutto dovrebbe essere confermato nella giornata di oggi a meno di un contrordine che arrivi dalla Regione e che posticipi ancora la riapertura delle scuole su tutto il territorio regionale. In attesa del 7 gennaio il Comune di Teramo si organizza per quanto riguarda i trasporti, punto debole nella trasmissione del virus. E' prevista infatti una riunione operativa indetta dall'assessore Maurizio Verna nell'ottica della pianificazione redatta dal prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, in sinergia con le amministrazioni e i gestori del trasporto. A tal proposito, l'Agenzia regionale dei trasporti TUA ha annunciato 4.000 corse per la riapertura delle scuole e fermate anti-assembramento. Verranno inoltre rispettate rigidamente le direttive nazionali sulla capacità di carico sugli autobus che impongono di trasportare fino all'80% della capienza indicata sulla carta di circolazione di ogni mezzo. Le altre prescrizioni sono ormai note, obbligo di indossare la mascherina, continua sanificazione dei mezzi e ricambio d'aria. Infine il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, in vista del rientro a scuola, ha chiesto ufficialmente alla regione di applicare per tutto l'Abruzzo la circolare anti-covid dell'asla di Teramo, che prevede test rapidi all'intera popolazione scolastica, un sistema che permetterebbe di tenere così aperte le scuole.